dopo aver concluso le degustazioni delle Lindemans diciamo un po' più pop, un po' più economiche e un po' più entry level per passare al livello successivo diciamo alla fascia più alta di Lindemans iniziamo oggi con questo Lindemans Faro allora il Lambic in questione è appunto un Faro il produttore è Lindemans siamo in Belgio lo stile di questa birra è appunto un Lambic per essere precisi appunto un Faro la gradazione alcolica di questo Lambic è 4,5 gradi rientra ancora tutto sommato nelle birre un po' più economiche infatti la bottiglia da 25 cl l'ho trovata online su Beer Shop a 2 euro anche se in questo caso degusteremo un Faro alla spina il bicchiere che suggerisco per il consumo è direi un Tumbler o in alternativa un tulipano e non si tratta di un primo assaggio come vedete ho qui sia il bicchiere sia la bottiglia anche per parlare un pochino delle differenze tra questa birra servita appunto dalla bottiglia o spillata appunto da un impianto alla spina come potete vedere da quando ho iniziato a parlare la schiuma è quasi completamente se ne è andata quasi completamente è una caratteristica di queste birre in generale delle Lambic avere schiume sempre poco persistenti nonostante la spillatura venga si possa un po' giocare e cercare di fare un po' più schiuma di quanto previsto diciamo dallo stile però comunque è una schiuma non persistente infatti è già svanita quasi completamente questa birra appunto in questo caso la degusterò dalla spina ma appunto c'è anche in bottiglia mi sono portato la bottiglia anche per dire due cose su come viene un po' presentata questa bottiglia allora come le altre Lindemans che avrete sicuramente già visto su questo canale c'è una copertura nella parte superiore con questa carta metallica sotto c'è sempre il tappo in questo caso c'è anche un tappo in sughero sotto il tappo metallico sempre l'importante è il logo di Lindemans nella etichetta frontale c'è il logo di Lindemans c'è l'anno di fondazione eccetera eccetera mentre sul retro ci sono più o meno le stesse indicazioni in questo caso non sono scritte in italiano ma ci sono scritti gli ingredienti grado alcolico, data di scadenza, bandiera del belgio eccetera per quanto riguarda la stessa versione di birra alla spina ci sono alcune differenze essendo questa la prima birra diciamo esaurite le birre entry level di Lindemans quelle un po' più semplici ad approcciare un po' più economiche passiamo a un livello superiore bisognerebbe secondo me spendere due parole un attimino sul birrificio Lindemans come ricorda il logo appunto Lindemans in birrificio fondato nel 1822 inizialmente la produzione era solo interna nel senso che veniva prodotta birra all'interno di questa fattoria solo per il personale che lavorava all'interno di questa fattoria come spesso accadeva in Belgio veniva fatta birra nei mesi invernali per poi essere consumata prevalentemente nei mesi primaveri ed estivi col passare del tempo Lindemans è cominciato un po' a espandersi per essere precisi Lindemans incomincia quasi un centinaio di anni dopo perché nei primi del 1900 incomincia a vendere anche all'esterno diciamo dell'azienda agricola dove veniva prodotto questi primi lambic vende quindi a principalmente bar attività commerciali sempre nella zona la vera esplosione commerciale si ha di Lindemans negli anni 70 quindi insomma abbastanza recentemente Lindemans è un pochino criticato perché appunto negli anni 70 quando c'è questa grossa esplosione a livello proprio commerciale di Lindemans che riesce ad esportare in tutta Europa e poi anche in America passa un po' dal produrre lambic diciamo nello stile un po' più classico e tradizionale a cose un pochino più semplici un pochino più facili da bere anche più economiche il caso un po' più emblematico forse è proprio la cric di Lindemans le cric sono un tipo di lambic in cui ci sono le ciliegie o amarene che vengono lasciate in ammostamento comunque viene fatto a fermentare il frutto all'interno appunto di questo lambic e prima degli anni 70 le cric di Lindemans erano prodotte con ciliegie che provenivano da una zona particolare del Belgio ma anche a causa di questo grandissimo successo che ha ottenuto non c'erano abbastanza ciliegie per fare tutta la cric che veniva richiesto a Lindemans di conseguenza la scelta in alcuni casi discutibile sicuramente è stata quella di fare una base di lambic e aggiungere poi un concentrato a base di ciliegie che acquistava un po' dove capitava peraltro con aggiunte di edulcoranti di sintesi se non ero la stevia veniva aggiunto in questo succo di ciliegie la cosa quindi insomma ha fatto un po' non dico di disprezzare ma comunque non è piaciuta molto ai puristi diciamo del settore questa cosa non è durata molto però è perché dal 1994 Lindemans ha un po' differenziato queste due cose tenendo una linea molto semplice da approcciare che sono le bottigliette da 25 che sicuramente avete già visto su questo canale e che abbiamo appunto appena concluso di degustare c'è poi dopo tutto una linea di birre fatte un po' più diciamo in maniera tradizionale un po' più old school mi verrebbe da dire e quindi dal 1994 la prima cric diciamo tradizionale che ha ripreso a fare Lindemans se non erro è la Cuvée Renée che è una cric molto tradizionale con ciliegie vere tra virgolette che vengono lasciate in ammostamento viene fatta la fermentazione spontanea e tutto il resto è una scelta commerciale due linee diverse per due anche pubblici leggermente differenti la birra che beviamo oggi o meglio il Lambic che beviamo oggi è un farò i farò sono un sotto insieme diciamo del genere Lambic se si tratta di birra fermentazione spontanea a volte vengono fatti blend a volte no a cui comunque viene aggiunto dello zucchero candito è uno dei motivi anche per il colore così scuro l'idea di aggiungere zucchero candito deriva da un motivo pratico e storico anche cioè di l'abitudine nei bar nei caffè appunto del nord Europa di aggiungere alle birre acide le zollette di zucchero comunque aggiungere dello zucchero per rendere un po' più facile la bevuta di questi prodotti oggi viene fatto volutamente commercialmente diciamo di aggiungere prima della commercializzazione già questo zucchero immaginiamo storicamente che le birre venivano versate all'interno dei bicchieri e poi nel momento della consumazione veniva aggiunta come facciamo noi oggi con il caffè per intenderci una zolletta di zucchero per appunto rendere più facile la bevuta di questo prodotto questo farò come vi dicevo è spillato alla spina da un fusto a sacca i cosiddetti fusti kick egg se vi ricordate le puntate precedenti abbiamo fatto un confronto sì per quanto riguarda la panchipa sia per la la imperial stout di flying dog la gonzo se non erro male sì la gonzo abbiamo soprattutto sul video della gonzo sì abbiamo fatto un po' di discorso sulla differenza tra il fusto classico con il con il contatto tra l'aria o meglio tra il gas che spinge di solito l'anidride carbonica che spinge fuori la birra e invece fusti a sacca dove non c'è questo contatto e questo è un classico esempio di fusto a sacca il vantaggio di questo metodo è che la carbonazione della birra se tutto l'impianto è calibrato con le pressioni contro pressioni giuste appunto la carbonazione e la frizzantezza della birra è identica a quella che c'è in bottiglia sempre immaginando una mescita corretta della bottiglia in questo caso la birra l'ho già bevuta diverse volte sia in bottiglia e sia recentemente anche alla spina e piccolo spoiler effettivamente non ci sono differenze a livello di carbonazione e anche più o meno a livello di analisi olfattiva non ci sono grandi differenze ho parlato un po' a lungo ma perché mi sembrava doveroso fare questa introduzione la schiuma è praticamente svanita nei pochi minuti in cui ho fatto dal dal logo di dispillatura a qui quindi è davvero svanita in pochi secondi però passiamo all'analisi diciamo e alla degustazione e all'analisi sensoriale di questa birra il bicchiere come vi dicevo è un tumbler forse l'ho già detto in qualche altra puntata la motivazione per cui i lambic vengono spesso serviti in tumbler è più che altro di tipo storico tradizionale diciamo più che motivo diciamo tecnico di questo bicchiere cioè non stiamo parlando di un tecu la cui forma è stata studiata o meglio provata per tirare fuori certi certi sentori certi profumi certi aromi in qualche caso sono anche certi difetti è un motivo principalmente storico se volete bervi un lambic in un tulipano fate benissimo io personalmente alcuni lambic soprattutto quelli invecchiati li bevo addirittura nel bicchiere da cognac perché riesce ad arearsi molto meglio e tirar fuori quei profumi di muffa che in altri casi sono un pochino più difficili da sentire ho fatto un piccolo rabbocco giusto per fare un'analisi visiva corretta perché non c'era più schiuma quindi non si poteva più o meno vedere il colore della schiuma la schiuma poco persistente di un colore bianco abbastanza regolare con una texture molto fine e appunto svanisce in fretta la birra di per sé è un colore ambrato molto limpida ci sono riflessi più chiari non c'è mai fondo nulla in sospensione perché Lindemans microfiltra e pastorizza questo prodotto questo per garantire anche uno standard di stile su questa tipologia di prodotti cosa diversa ovviamente su altri lambic diciamo di livello un po' più alto vediamo quindi al naso allora al naso ci sono un pochino di sentori classici di questo stile ma non sono esagerati è un lambic davvero molto molto facile da bere resta davvero ancora forse secondo me un po' nell'ambic diciamo entry level c'è sicuramente una parte fruttata che forse va verso gli agrumi c'è una discreta nota che va un po' verso direi in questo caso la muffa un pochino forse anche di stalla ma davvero poco e si sente leggermente ma mi sembra di sentire comunque io questa sensazione di sentire qualcosa che va verso l'ammoniaca capita di trovare l'ammoniaca in alcune anche non nell'ambic ci possono sentire dei profumi degli aromi anzi che vanno in quella direzione perché più che l'ammoniaca non è proprio un profumo gradevolissimo però è un sentore che può ricorrere in certe birre e qui leggermente mi sembra di percepire anche anche questo non è sicuramente complessa al naso e vediamo in bocca ma so già che non lo sarà neanche neanche in bocca allora che dire un'apertura davvero molto molto dolce a cui subito segue questo tono acido abbastanza marcato d'altra parte è una birra acida e ce l'aspettavamo dolce acido hanno sicuramente la parte predominante di questa birra e non c'è quasi assolutamente lupolo la parte amara è praticamente assente anche sul finale l'unico l'unica cosa che resta in bocca è appunto questo questo tocco acido che è abbastanza anche persistente assieme al dolce che si alternano un pochino è un prodotto sicuramente molto interessante molto facile da bere senza dubbio può essere anche questo un buon modo per avvicinarsi a tutto il mondo delle birre acide non è sicuramente molto complesso ma come dicevo altre volte con alcuni prodotti di Lindemans volutamente non è particolarmente complesso proprio perché è pensato per un pubblico diverso questo è quindi Lindemans farò Scal è un pubblico